Questo lunedì è stato il giorno della memoria dello sterminio degli ebrei a Shoah, ma non molti sanno che ne fu coinvolta direttamente anche la nostra provincia perché la Repubblica Sociale Italiana istituì a Bani di Lucca un campo di internamento degli ebrei, però manca una lapide in questo luogo a Villa Cardinale dove furono rinchiusi circa 110 ebrei che poi furono dirottati per l'agnentamento ad Auschwitz. I fascisti italiani collaborano direttamente a questo delittuoso evento istituendo due campi di internamento in Toscana, di cui uno appunto a Bani di Lucca. Il 30 novembre del 1943 la prefettura di Lucca emana l'ordine di cattura degli ebrei. I primi di dicembre vengono portati circa 110 ebrei a Villa Cardinale a Bani di Lucca nel campo di internamento. Il 23 gennaio del 1944 gli ebrei vengono su carri di bestiame portati a Milano e il 30 gennaio vengono dirottati sempre su carri di bestiame verso i campi di annientamento di Auschwitz. La vittima più piccola si chiamava Liliana Urbach e aveva due anni. La comunità di Bani di Lucca ha voluto ricordare la piccola vittima con un monumento. Purtroppo manca ancora una lapide, una lapide a Villa Cardinale dove passarono appunto i 110 ebrei e per ricordare soprattutto che furono italiani complici di questo dirittuoso evento, italiani che ebbero anche compiti di sovveglianza del campo. E non è un caso che a Milano, alla stazione di Milano presso il binario 21 da dove partivano i convogli per Auschwitz, c'è il museo del Shoah e c'è una grande scritta dove c'è soltanto una parola, indifferenza, ed è una parola che ci interroga a tutti.